Diciamo che con l'occasione si riapre l'ex sede dell'ente provinciale del turismo che era passata poi con diverse peripezie alla proprietà della regione Liguria. Una bellissima costruzione in evidenza nel centro del traffico e del passaggio che abbiamo acquisito dalla regione ad un prezzo molto molto conveniente che ci permette di raggruppare insieme l'assessorato alle manifestazioni, alla cultura, allo sport e al turismo liberando il Cavour che quindi sarà adibito unicamente a tutto ciò che ha a che fare con il teatro, con la scuola del teatro, con la danza e con tutto ciò che vogliamo ci sia per creare movimento, storia, cultura e arti nel teatro Cavour. Prima conferenza di oggi, aspettando il centenario, un evento lanciato l'anno scorso, ci saranno delle novità quest'anno? Beh vedete, per dire le cose come sono, il periodo dove c'è minor turismo e dove la città è più ferma è ottobre e novembre. Abbiamo ritenuto che fosse giusto valorizzare la nascita della città che è il 21 di ottobre di 96 anni fa e che fosse giusto anche valorizzare il 26 novembre che è la data del patrono della città di Imperia. E allora abbiamo pensato, in attesa del centenario che sarà nel 2023, di fare ogni anno, in questo mese, mese e poco più, una serie di iniziative coinvolgendo tutta la città sul tema di Imperia, della sua storia, perché è una città giovane ma una storia antica nei singoli capoluoghi, nelle singole cittadine, gli undici ex comuni e in questo modo coinvolgere le associazioni, i cittadini, creare insomma una città viva.